ti dico perché ci ho già parlato gioca con i 4 in difesa perché lui fa i 4 i 3 a centrocampo Schneider e le due punte che sono uno è Pazzini e l'altro è Forlano allora ti ho detto non gioca Milita gioca con una squadra normale allora andiamo ancora in testa allora andiamo ancora in testa gioca con la linea la vostra testa è andata questo è lo schieramento come diceva un grande allenatore argentino io li metto in campo poi spero si muovono il problema è 4 in difesa chi sono 4 in difesa il problema è qui Maicon ha la memoria Kivu, Samuel, Lucio tutti ha la memoria tranne Samuel che secondo me è il più forte di tutti Samuel, Lucio e a destra ci metto Jonathan Maicon Maicon a destra Coppia centrale Ranocchia e Samuel Lucio lo lascia fuori e a sinistra e a sinistra Nagatomo non lo so I tre a centrocampo Zanetti Cambiasso e Spankovic Schneider Ma è tutta la memoria ma è tutta la memoria ragazzi Tiago Motta non gioca gioca in nazionale ma non gioca nell'Inter Cambiasso l'abbiamo visto ha fatto gol Allora dai questa questa comunque è la formazione degli intervianieri e a sinistra Peppi Noi Noi Per Noi 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 Grazie.